La ripresa economica nella fase 2 dell'emergenza, l'analisi dell'economista Alessandra Faggian del Gran Sasso Science Institute, l'ha intervistata Micaela Barilari. Dopo due mesi di lockdown, una ripresa piena di incognite anche per l'Abruzzo. Pensando allo sviluppo del territorio, l'economista Alessandra Faggian distingue tra scenari a breve e medio-lungo termine. Il breve periodo vede in difficoltà le piccole e medie imprese. Queste piccole e medie imprese hanno bisogno di liquidità per poter sopravvivere questa ulteriore crisi. Difficoltà sulle quali incide anche la chiusura delle scuole. Se non risolviamo il nodo delle scuole, ovviamente c'è il problema dei genitori che devono lavorare, hanno però il problema dei figli. Su distanze più lunghe potrebbero evidenziarsi delle opportunità, ad esempio per il turismo. Il turismo di prossimità, gli italiani che vogliono rimanere in Italia per le vacanze e non si sentono di viaggiare ovviamente per tutte le restrizioni che ci sono, ma anche perché comunque il Covid è ancora in giro e quindi c'è ancora paura, potrebbero decidere di venire in Abruzzo e quindi questo potrebbe essere un punto di forza. Per altri settori la situazione potrebbe vedere degli effetti di sostituzione. Mentre nel settore delle telecomunicazioni comunque ci aspettiamo un boom o comunque ci aspettiamo una tenuta perché diventa fondamentale in questo periodo di pandemia. Maggiori difficoltà possibili invece, ad esempio, per il trasporto pubblico con la crescita dell'utilizzo dei mezzi privati. La mobilità post-Covid incide sullo stesso Gran Sasso Science Institute che alla ripresa a settembre delle lezioni in aula, possibile per le piccole dimensioni dell'istituto, vede più richieste da italiani rispetto agli stranieri, al contrario degli scorsi anni. Nessuna conseguenza invece sulla ricerca, anzi intensificata con le possibilità offerte da incontri online.